Per lei e per tutte, per ricordare le vittime di femminicidio, in modo particolare Noemi Durini, assassinata a specchia nel 2017 dal suo fidanzato, un delitto brutale che fecerà brividire il Salento. La madre, segnata a vita, non dimentica e il suo grido di dolore si leva al cielo, non solo per ricordare la figlia perduta, ma anche per essere ambasciatrice del messaggio della non violenza e del rispetto delle donne, che va veicolato sin dei teneri passi, nella scuola di infanzia e nei luoghi pubblici, come ieri sera, presso i laboratori urbani di Monteroni. Durante il convegno, organizzato da edizioni esperidi con il patrocinio della città di Monteroni di Lecce, in collaborazione con FIDAPA e associazione Casa di Noemi. Non è more è un ricordo che non sbiadisce e non sbiadirà mai, è un ricordo dell'ultimo post scritto da mia figlia Noemi Durini. Noi lo facciamo vedere, questo cortometraggio in tutte le scuole è un cortometraggio che è stato realizzato dall'associazione Astrea per ricordare l'ultimo post di mia figlia Noemi. Un momento di riflessione intorno al romanzo Yael Perez e ai temi relativi all'essere donna oggi. Il grande problema della violenza di genere è un fenomeno fin troppo diffuso che non si riesce ad arginare. Il più delle volte si annida come un cancro tra le mura domestiche e nei rapporti d'amore. Sta nella forza delle donne ribellarsi e trovare il riscatto perché se vi umiliano, se vi picchiano, se vi vietano di vestire alla moda, se vi confinano in casa, se vi stalkerizzano e se vi trattano alla stregua di schiave, non è amore ed amore non si muore. Speriamo di aver dato un piccolo contributo per raggiungere finalmente la parità di genere contro ogni discriminazione, che sia sessista, che sia razziale, che sia morale e umana.